ma ciao a tutti e bentornati per un annuncio a reti unificate uno dei miei annunci a reti unificate significa che trasmetterò questo stesso video messaggio importante sia nel mio canale apple caffè quello storico dove siete tantissimi a seguirci sia nel mio canale un po più intimo e personale ma dove parlo tantissimo di questo argomento che è inerente al lavoro con i droni con le riprese audiovisive e che si chiama wonder robbie e dove se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi mi raccomando di che cosa stiamo parlando? del fatto che è a grande richiesta e sottolineo grande richiesta perché ci sono adesso devo andare a recuperare tanti commenti tanti messaggi tanti email che ci sono arrivate per chiederci quando avremmo ripetuto questo corso questo corso di aerial filmmaking vale a dire tutto quello che c'è da sapere non solo per fare riprese aeree ma proprio per creare dei prodotti audiovisivi anche da terra quindi le nozioni fondamentali sia di fotografia che di grammatica del linguaggio audiovisivo che di movimenti di camera sia riferiti allo standard cinematografico televisivo tradizionale sia riferiti proprio specificatamente alle riprese aeree effettuate con il drone e poi tutto quello che ha a che fare con la preproduzione, i progetti, lo storyboard da preparare prima di mettersi a fare operativamente le riprese e anche la postproduzione quindi tutto quello che occorre sapere per creare un montaggio audiovisivo efficace avendo avuto un grandissimo successo questa è già credo la quarta volta che ripetiamo questa giornata intensissima una full immersion di circa otto ore e qualcosa di più anche di lezioni e la data prevista è il 10 febbraio quindi vi dico subito mi raccomando organizzatevi questa volta perché tantissimi messaggi ci sono arrivati le ultime volte chiedendoci no ma perché solo quel giorno io quel giorno non posso vi prego avvertitemi per tempo quando sarà la prossima occasione ecco la prossima occasione è arrivata quindi organizzatevi segnatevi quello che vi dovete segnare trovate qui nell'info box sotto a questo video di youtube in descrizione le varie informazioni per iscrivervi a questo corso il corso è effettuato presso la scuola Aerovision di Roma in zona EUR laurentino con tutti i professionisti del settore tra i quali anche gli insegnanti del corso per diventare piloti di droni tra i pochi in Italia ad essere ufficialmente riconosciuti da ENAC anch'io sarò lì mi occuperò della parte che riguarda le basi del linguaggio cinematografico audiovisivo e il montaggio ormai dopo averlo già sperimentato varie volte siamo sicuri che questa giornata intensa, faticosa e lunga sarà però anche davvero illuminante per voi e per questo ringrazio le persone carinissime che hanno già partecipato al corso e che hanno scritto delle recensioni bellissime per noi è stata veramente una grande soddisfazione bene quindi gli interessati non devono far altro che guardare nell'info box sotto questo video di youtube e vedere i vari riferimenti per iscriversi al corso e per chi ci sarà a Roma il 10 febbraio ci vediamo lì ciao